Porto il saluto della Camera di Commercio di Milano, del Presidente Carlo Sangalli, di tutta la Giunta Camerale e anche dell'Avvocato Accornero che stasera sarà con voi per la cena e la premiazione delle donne che si sono distinte nei diversi settori della tecnologia e della salute. E porto innanzitutto anche il ringraziamento, il ringraziamento ad una persona eccezionale, Gianna Martinengo, che veramente è stata l'ispiratrice di questa iniziativa in cui la Camera di Commercio ha creduto fin dall'inizio, perché è un'iniziativa di carattere internazionale importante che ha nuove modalità di coinvolgimento delle donne, modalità vicine alle donne che quindi consentono alle donne anche di dialogare, di confrontarsi, perché è di creare quella rete di cui abbiamo bisogno, bisogno proprio per creare questa solidarietà e per proseguire in una battaglia per una più forte rappresentanza. Però il tema di oggi è anche un tema che interessa da vicino la Camera di Commercio per la vicinanza proprio di un tema che è quello dell'innovazione tecnologica che per noi costituisce proprio la leva della competitività, una leva che porta quindi a una migliore qualità dei prodotti e dei servizi e ancora a una valorizzazione del capitale umano. E proprio qui noi donne che siamo la metà almeno di questo universo dobbiamo trovare la valorizzazione e la chiave della modernizzazione, la chiave proprio anche di utilizzare le nuove tecnologie con nuove forme organizzative, non possono che coinvolgerci e appunto aiutarci in questo discorso di valorizzazione. Oggi poi il discorso della nuova tecnologia dà dei segnali molto positivi. Il nostro registro imprese registra 11.000 imprese scritte individuali, femminili, attive nell'ambito delle nuove tecnologie, imprese in rosa. Quindi un numero, un record, siamo infatti con un trend di crescita rispetto all'anno precedente del 2,8% che in momenti di crisi ci sembra assolutamente bello sottolineare. Però questa crescita, questa imprenditoria in rosa nelle nuove tecnologie ha la sua base, la sua concentrazione maggiore proprio a Milano. Una su sei di queste imprese proprio ha sede a Milano e questo naturalmente ci riempie di orgoglio perché poi sono due settori di punta, quelli che oggi andiamo ad esaminare, che sono anche due eccellenze milanesi e posso dirlo ringraziando anche l'assessore perché certamente questo ha contribuito all'eccellenza nella sanità e nelle nuove tecnologie. Nella sanità sappiamo poi che dobbiamo fare molto per valorizzarla. Abbiamo studiato appunto in Camere di Commercio una serie di indicatori che ci indicano proprio come ci sia una sorta di turismo anche sanitario verso Milano e questo dobbiamo affrontarlo creando i giusti sostegni ma anche diciamo riconoscendo che questo è anche un volano per la nostra economia. Oltre 500.000 persone appunto fra degenti e accompagnatori raggiungono Milano e questo contribuisce a una sorta di flusso e di spese che valgono un giro diciamo di circa 100 milioni di euro. Allora queste due eccellenze dell'economia milanese, l'innovazione tecnologica e il settore sanitario proprio sotto il segno dell'imprenditoria rosa cioè sotto il segno della piena valorizzazione e del pieno utilizzo del capitale umano a disposizione del nostro territorio e del nostro sistema economico. Grazie 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 Grazie